Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! 18 mesi maestri, con una nuovezza nel suo titolo idriatico. Vedete che il quadrato non taglia ragazzi, è finto. Vedete? Eh, faccio vedere che non taglia. Ehm... Non taglia. Ehm... Ehm... Sì sì, io sono... Mi dà un po' di documenti? Un po' di documenti del piacere. Aspetti, aspetti... Ci pensa... Un po' di documenti. Aspetti che tiro fuori i documenti. Dammi un po' di documenti del piacere. Un po' di documenti del piacere. A chi sei figlio, tua madre, tua madre, tua parenti... Faccio documenti. Aspetti, un po' è... Un po' arriva. Cazzo me ne è bitto, ma ne è bitto. Ehm... Ma è rotto il cazzo. È rotto cazzo, capito? Ehm... Ehm... Cazzo dov'è? Vabbè... 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 Più... Vi presento direttamente il muro. Il muro... Vi presento il muro. Siamo pronti? Tre... Due... Uno... Ecco il muro! Nooo! 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 Faccio lo. Faccio... Ehm... Non è il professore quello? Ehm... Stav'è lì dove c'era vino. Ma forse dove c'era? Ah sì... Porco dio! mannaggia la madonna me rutto cazzo che succede se gli mori città un attimo a me mannaggia allora allora ma te ne vai affanculo si? te ne vai affanculo e rutto cazzo vabbè dopo vado a casa tua e rutto cazzo si te ne vai affanculo si o no? ma secondo te me ne fottono cazzo tutte cose tu ci rutto cazzo si dai alexandria che linguaggio che linguaggio li ho ficca pure nelle tue cule capii? è scassato a stasi ma stai un bello ma calma c'è in grado alexander se ci segui io stavo a due biblioteca e le viti uscita ma del cazzo non è molto meglio come visto mi hai visto e fanno bello film porno ma tu riesci a mano perché c'è tutto cazzo c'è tutto proprio cazzo hai capito da venire non c'entrata tutti quanti che don 11 vedi nel parchetto spaccio cocaina la sciocula mannaggia cartarella e non 11 poi abbiamo nove il gol in chi è gaming 94 maestro manco io maestro manco io maestro manco io maestro ma io maestro ma io maestro ma lo so lo so lo so lo so porco dio ma anche tu lo so io tv 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 io potrò scegliere mi servono tre persone per giocare a fortuna e questo muro mi serve per giocare a fortuna con qualcuno capito oppure fare qualsiasi cosa ai toni non ti sei abbonato adesso capito no non serve ragazzi non soltanto nessuno ragazzi ho scritto tutti quanti sono 285 partecipanti non me lo aspettavo